Massimo Zeda, sindaco di Cagliari, candidato alle elezioni regionali come presidente della regione per il centro-sinistra, ha sciolto la riserva. Lascerà la carica di primo cittadino della città metropolitana ed entrare in consiglio regionale per guidare l'opposizione in centro-sinistra al governo di centro-destra del presidente Cristian Solinas. Zeda ha comunicato la sua decisione di approdare in consiglio nel corso di un evento a Forto Janus. Una scelta di coerenza, c'è da decidere ora le modalità con cui lasciare l'incarico di sindaco di Cagliari. In caso di proclamazione, come eletto in consiglio regionale, Zeda decaderebbe automaticamente dalla carica di primo cittadino. Il suo posto a Cagliari verrebbe preso dalla vice-sindaca Luisa Marras, che guiderebbe il comune fino alla scadenza naturale del mandato nel 2021. In caso di dimissioni, la giunta regionale invece nominerebbe il commissario fino alle nuove elezioni che potrebbero essere fissate nel 2020. Se invece Zeda lasciasse volontariamente l'incarico entro il 16 marzo, Cagliari potrebbe essere chiamata al voto in primavera. La soluzione più probabile è che Zeda lasci per decadenza, consentendo così alla giunta da lui guidata, di portare a termine il mandato e lasciare la città metropolitana a guida a centro-sinistra. In consiglio regionale, Zeda guiderebbe una pattuglia di 18 consiglieri che, al di là della sconfitta, hanno retto l'urto del vento leghista e della forza del Movimento 5 Stelle, che si presentava alle elezioni regionali, forte e di un 43% ottenuto alle politiche. L'obiettivo di Zeda sarà certamente l'opposizione, ma anche la preparazione di un progetto che porti il centro-sinistra alla vittoria alle regionali nel 2024. L'obiettivo di Zeda L'obiettivo di Zeda